L'indagine ha preso il via dopo la sparatoria in cui rimase ucciso vicino a Milano il tunisino responsabile del sanguinoso attentato ai mercatini di Natale a Berlino e ha smantellato un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante della transnazionalità. In tutto sono 44 gli appartamenti passati al setaccio nell'operazione che ha portato all'arresto di tre tunisini. Uno è ai domiciliari, gli altri sono in carcere. Indagati a vario titolo sono una quarantina. Erano tutti attivi tra il centro e il sud Italia, da Ferrara a Siracusa. La maxioperazione è stata chiamata wet shoes, cioè scarpe bagnate, perché durante un'intercettazione uno straniero al telefono diceva di temere i controlli della polizia mentre trasportava un gruppo di migranti appena arrivati a Mazzara del Vallo con ancora indosso le scarpe bagnate.